Stiamo avvicinando alle Starfall Island Che emozione Gli smeraldi del caos sono lì, giusto? Non vedo l'ora di raccogliere smeraldi Sonic, perché devi sempre stare in piedi? Ehi, sempre meglio della Frontier Airlines, dico bene? Tails, Amy, sembra che sia l'unico che si è sopravvissuto Qualunque cosa fosse Wow, guarda che manone Wow, una ragazza anime Devi andartene Cosa? Vattene via Ok, non voglio stare qui Allora vattene Lo farò, ma dimmi come? Non posso dirti nulla Tu sei un mio nemico Perché? Perché tu stai arrecando offesa Lui mi ha attaccato Tu mi disguste Le faccio vedere io che arreca offesa Fatti sotto, te la hai a punta Classica violenza Cavolo, ma che cazzo sta succedendo qui? Amy! Amy, riesci a sentirmi? Amy, come faccio ad andarmene? Odio stare qui Non è il momento di essere prigioniera Di un globo misterioso, Amy Non c'è nulla che possa fare Può quest'isola essere peggio di così? Amico della troia punta Allora, i pronostici a mio favore sono bassi Avrò bisogno di più potere per buttare giù un tipo del genere Come diavolo dovrei fare a ottenere più potere da queste parti? Sono contento che tutti gli sberaldi del caos fossero sparsi in giro Adesso dov'è quella troia dentata? Oh no! Ma è la roba di Robotnik! Non dirmi che anche lui è qui! Perché sono ancora qui? Fammi uscire subito! Non posso rimuoverla in sicurezza dal cyberspazio Lei è nella catena di blocco Cosa? La catena di blocco è un'immutabile decitura digitale distribuita da più nodi in un network peer-to-peer Cosa? Ehi tu! Mi ho avuto abbastanza del tuo brutto muso da Evangelion Super Smeraldi andare ora! Ah sì! Riesco a sentire la violenza scorrermi nelle vene Futtiti! Su, cosa devo fare? Riesco a sentire la violenza scofferta Weeeeeee! 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 Eeeeeee! Eeeeeeeeee! Eeeee! Grazie a tutti.